popolo di internet ben ritrovati a un nuovo video oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti io sono uomo che sapeva troppo per gli amici uomo e siamo qui oggi in questa notte buia e tempestosa di halloween a parlare di licantropus ora a colori e non colori casuali ma una vera e propria citazione alle classiche ricolorazioni dei vecchi film horror in bianco e nero che venivano riproposti negli anni con questi colori vividi quasi falsati così brillanti ma che radevano spesso molte pellicole addirittura più inquietanti della loro controparte in bianco e nero ebbene sì ebbene sì marvel ha ricolorato licantropus ha ricolorato licantropus e ce lo ha proposto in questo ottobre così per festeggiare assieme halloween non avendo diciamolo probabilmente un nuovo special di halloween da riproporre anche quest'anno visto che licantropus lo avevano appunto proposto lo scorso anno ma nonostante molti vedo si siano lamentati siano impazziti per questa ricolorazione quasi che non so gli avessero ammazzato i genitori c'è da dire che un po di senso ce l'ha il ricolorare licantropus proprio perché come dicevo prima è una cosa che si faceva con i film classici e ancora in parte si è fatta in tempi recenti tante pellicole in bianco e nero venivano ricolorate con diciamo un tipo di ricolorazione piuttosto arcaica che andava a cercare di riprendere di ripescare quelli che erano i possibili colori trasposti sulla pellicola con delle operazioni che sì a volte erano un po così non propriamente riuscite ma che in qualche modo davano fascino alla pellicola ci sono dei film che visti in bianco e nero nella loro forma originale bellissima e visti ricolorati sembrano quasi due opere diverse entrambe con un certo fascino quindi sì sarà un'operazione magari dettata dal fatto di avere poco materiale tra sciopero e altri vari problemi produttivi lo sappiamo questa fine anno e il prossimo anno saranno un po più duri per i fan marvel e per i fan del cinema in generale però ho trovato carina l'idea di mostrarci anche il licantropus in questa nuova forma anche perché i colori che hanno usato appunto vanno veramente a riprendere quelle vecchie pellicole quella grana quei colori con la grana sotto tipici di certe ricolorazioni cioè sappiate che il licantropus mantiene comunque la sua aura da vecchio film semplicemente si mostra un po più moderno anzi forse aiuta anche per immaginarci quando il personaggio presumibilmente lascerà i lidi degli special horror e si mischierà ad altri personaggi dell'universo marvel devo dire che quando c'è il momento della trasformazione un pochino si vede ecco che alcuni piccoli trucchetti effetti speciali effetti visivi potevano essere migliorati il bianco e nero li nascondeva forse meglio questo va detto ma altre altre scene no gore con il sangue che non è propriamente rosso ma più marroncino insomma anche la scena di terrore di elsa bloodstone devo dire che mi sono sembrati quasi più inquietanti visti a colori no per avendo più in chiaro davanti quello che stava succedendo e poi ricordiamo che c'è anche il bellissimo man thing l'uomo cosa alias ted tenerissimo che già avevamo visto a colori alla fine dello special e che qua possiamo godere in insomma ma nella massima cromia durante tutta la durata dello speciale cosa penso di ricantropus in realtà l'ho già detto in un vecchio video dello scorso anno che vi linko in descrizione e anche nei commenti magari nel primo commento quindi vi prego apritelo guardatelo andatelo a cercare qua sotto nella descrizione del video lo trovate ma lo metto anche tra i pinnato insomma in alto nei commenti qua in descrizione tra l'altro trovate anche vari modi per sostenere il canale per raggiungermi da altre parti tipo i social o anche su twitch dove faccio un sacco di live dove chiacchieriamo recensioni reaction rispondo a tutti i vostri commenti vi do dei consigli fumettosi film filmici ci scambiamo consigli insomma un sacco di live super divertenti con anche degli ospiti a volte delle rubriche fisse delle rubriche improvvisate venite su twitch a trovarmi mi raccomando sotto trovate tutti i link brevemente però ecco comunque ribadisco come di cantropus sia veramente un gioiellino un piccolo gioiello diretto da michael giacchino che appunto è un alla sua prima regia di fatto dopo aver fatto un sacco di musiche bellissime e devo dire che dietro la macchina della presa non se l'è cavata male quindi c'è inquietudine ci sono momenti che ricordano il classico marvel movies ci sono momenti invece che ricalcano e omaggiano il cinema classico dell'orrore imbastendo questa storiella abbastanza interessante che insomma ci presenta un po' jack russell ovvero licantropus ma anche elsa bloodstone l'ereditiera e ultima superstite di questa famiglia di cacciatori di mostri tutti alla ricerca di questa bloodstone questa pietra di sangue incastonata proprio nella schiena di ted questo mostrone fatto di piante l'uomo cosa che nei fumetti nasconde dei segreti perché nei fumetti l'uomo cosa è il guardiano del nesso delle realtà il nesso no il crocevia dove si incrociano i mondi quindi in realtà ha molto a che fare con il multiverso l'uomo cosa non lo so se nella marvel visto che il multiverso lo stanno già sdoganando in diversi modi vogliano tirare in ballo anche questa sua abilità magari lo terranno solo come classico mostro con il potere del fuoco perché se hai paura di lui se lui trova paura in te al suo tocco prendi fuoco bruci questa cosa succede tra l'altro nello special ma non viene spiegato perché ma chi legge fumetti lo sa chi ha paura brucia al tocco dell'uomo cosa è uno speciale di circa un'ora se non sbaglio dura una cosa come una 45 minuti più i crediti che lo portano diciamo intorno ai 50 51 minuti ma una cinquantina di minuti poco meno di un'oretta che secondo me può divertirvi tra l'altro in questa nottata di halloween dove magari fate le maratone se non siete impegnati in feste o in uscite con gli amici magari vi ritrovate così a casa o comunque se non stasera anche in questo periodo dove l'horror ha tutto un altro sapore perché c'è halloween è carino dagli un'altra possibilità una seconda possibilità sia che vi sia piaciuto che non vi sia piaciuto in versione bianco e nero versione in bianco e nero che tra l'altro resta su disney plus quindi non preoccupatevi tutti i puristi del bianco e nero che si sono quasi offesi per questa ricolorazione lo troveranno lì dove l'hanno lasciato ci sono entrambi ripeto è un'operazione molto carina che omaggia le classiche ricolorazioni di film horror quello un po in stile hammer quel colore dei film della hammer no il vecchio dracula quel sangue molto rossastro ripeto qui hanno deciso di optare per un sangue più marroncino anche per questioni secondo me di valutazione di pubblico di chi può vederlo il sangue particolarmente rosso avrebbe rischiato di farlo diventare un 18 più invece credo non lo sia dovrebbe essere comunque per tutta la famiglia però ecco una bel modo di immergersi nell'horror nella marvel horror il primo passo dell'orrore in casa marvel arriverà blade dei rumor tra l'altro dicono che il film di blade dovrebbe essere ambientato negli anni 20 non so bene in effetti quando è ambientato l'icantropus alla fine si parla di sushi si parla di cibo da sporto cosa che già era in voga negli stati uniti anche a partire dagli anni credo 50 e 60 non è che è una cosa arrivata in tempi moderni ma visto quello che c'è per terra quando stanno mangiando il modo in cui ne parlano mi sembra una cosa un po più moderna tra l'altro nell'intro si citano gli avengers si vede la battaglia di new york è vero che l'intro potrebbe essere esterno alla narrazione il narratore ci racconta di questo mondo di meraviglia ci mostra gli avengers ma non è detto che l'intro corrisponda alla realtà dei tempi moderni però viste alcune armi utilizzate visto anche la tecnologia di alcune cose insomma nonostante i vestiti dei cacciatori siano volutamente antichi credo credo insomma ricantropus debba essere ambientato in tempi presenti in tempi presenti ecco quindi il personaggio interagirà probabilmente anche con con i personaggi del presente marvel e devo dire che non vedo l'ora anche se non è sicuro perché ovviamente potrebbe restare uno special singolo non so quanto abbia fatto successo quanto marvel voglia riutilizzarlo magari in vena di tagli decide di lasciarlo così come una piccola avventura horror magari con un sequel sempre su disney plus non mi dispiacerebbe soprattutto dedicato magari ad approfondire un po il personaggio di ted dell'uomo cosa il nostro verdolone amico dopo hulk che è molto interessante nei fumetti un personaggio veramente interessante sarebbe bello venisse approfondito basta in realtà era veramente un breve video una scemata per segnalarvi comunque l'uscita di licantropus o werewolf by night in color a colori che è passata un po in sordina perché comunque siamo tutti presi dalla dalla pazzia di loki del suo ultimo episodio pazzo insomma stiamo andando verso il finale di stagione appena finito loki in concomitanza con la fine di loki arriverà pure the marvels al cinema quindi il povero licantropus a colori è stato un po così è uscito veramente in sordina quindi recuperatevelo guardatevelo tanto dura poco se non avevate visto la versione precedente in bianco e nero guardatevela oppure guardate direttamente questo fate voi guardatevele tutte e due non lo so fate quello che volete ma guardatelo perché ve lo consiglio è veramente un piccolo gioiellino anche per chi magari è un po disilluso da questa marvel e non gli stanno piacendo molte delle ultime produzioni in questo werewolf by night troverà qualcosa certo è anche divertente strano no questo trucco un po bizzarro ma finge di essere veramente un film di quelli vecchi dove gli effetti speciali dove si vedeva che l'attore che il lupo mannaro era un attore con addosso i ciuffi di pelo c'è un po di omaggio a quel tipo di cinema lì quindi non focalizzati sul fatto è però sembra finto sembra è tutto volutamente un po sopra le righe e allo stesso modo impacciato proprio per citare quel tipo di horror classico ma se vi lasciate cullare dalla sua atmosfera secondo me vi piacerà fidatevi fidatevi da uno che mastica un sacco di horror e adora il cinema di genere horror basta buon halloween io e la mia zucca che prima ho trattato male ma è ancora in vita quindi non denunciatemi amanti delle zucche vi auguriamo buon halloween e ci vediamo a un prossimo video piccola segnalazione se vedete questo video in tempo reale la recensione del prossimo episodio di loki arriverà un po più tardi arriverà sabato sabato notte perché c'è la fiera di lucca comics e quindi loki arriverà proprio mentre io sarò in fiera non potrò registrare il video in diretta ma arriverà nel frattempo noi ci vediamo per altri video altre dirette al prossimo video vi aspetto nei commenti fatemi sapere se l'avete rivisto cosa ne pensate se l'avete preferito in bianco e nero se l'avete preferito a colori insomma ditemi voi parliamo un po di licantropus perché se ne è parlato poco ciao 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 ciao